c'è un lago? andiamo io faccio tutti i video che poi posso tirare fuori le foto dopo che bello quasi saranno adesso 17-18 gradi credo sembra di essere sulla luna la gelata come pensate? 20 anni fa qua era un ghiaccio neve e ghiaccio ma che è l'acqua artificiale? 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 si pompa all'acqua si pompa all'acqua secondo me addirittura la portano via l'acqua perchè per non fare che ci siano problemi ma sai cos'è? ma non è l'acqua artificiale ma non è l'acqua artificiale la porta via si pompa all'acqua verso la montagna sarà il contrario la pomperanno verso il giù vanno apposta per farsi il bagno passa se